Musica Dopo la seduta del 24 luglio, pausa estiva per il Consiglio regionale, che riprenderà i lavori il prossimo 10 settembre. Ci si avvia alla fine della legislatura e tanti sono i temi che verranno trattati e ripresi dai gruppi consigliari. Per il PD, al centro delle problematiche da affrontare, il tema dei rifiuti, la sanità territoriale, la sicurezza sul lavoro. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato, ma che alla ripresa dovranno approdare in aula. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale, l'attuazione della sanità territoriale. Meritano la massima attenzione perché stiamo parlando di uno dei temi più cari ai cittadini. Poi avremo tutta una serie di temi generali, anche di carattere politico, sulla quale dovremo continuare a lavorare e ad insistere. Il tema della sicurezza sul lavoro. Credo quindi che ci sia veramente nell'ultimo anno di legislatura tanto impegno da mettere ancora a sostegno. Una forte azione della regione, soprattutto per quanto riguarda le fasce di popolazione e i territori che ne hanno più bisogno. Il piano dei rifiuti è il tema principale da affrontare anche per Italia Viva, oltre a una nuova sessione di bilancio per arrivare all'eliminazione degli incrementi dell'addizionale IRPEF. A settembre il Consiglio regionale dovrà dimostrare di essere in grado di approvare il piano dei rifiuti. Credo che sarà la priorità più importante passata la pausa estiva. Nel contempo una nuova sessione di bilancio, una variazione importante. Il DEFRE si possono quindi eliminare gli incrementi dell'addizionale IRPEF perché la sentenza della Corte Costituzionale dà ragione al nostro punto di vista. Siamo convinti che serve trovare quelle risorse riscuotendo quei crediti. Quindi avremo una stagione importante che nel contempo ci vedrà impegnati per fare in modo che anche alcuni grandi investimenti infrastrutturali prendano corpo e anche un aggiornamento su quello che sarà il quadro del sistema sanitario toscano per erogare nell'ultimo anno migliori servizi, diminuire le liste d'attese e soprattutto aumentare il livello qualitativo dei servizi che eroghiamo. Per Fratelli d'Italia alla ripresa dei lavori andranno subito affrontati i temi di Toscana Strade, il piano sanitario, la legge sul turismo. A settembre ripartiremo con un nuovo vigore, quello chiaramente che ci accompagna nell'ultimo anno di mandato. È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come Fratelli d'Italia, ma le assumeremo sicuramente, chiaramente anche come centrodestra e oltre al centrodestra anche come tutto quel contenitore che si fa alternativa al governo del Partito Democratico per tutte quelle che sono le prime partite subito a rientro dalla pausa di agosto. Quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo. Faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico, di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la regione toscana alla prossima scadenza elettorale. Piano socio sanitario, tema centrale anche per la Lega, come la discussione su Toscana Strade e il tema del lavoro. Si va in pausa per circa un mese, però noi inizieremo come Lega una serie di riunioni appunto con i nostri eletti in tutta la Toscana e con il Partito per affrontare una serie di tematiche ed essere pronti a settembre con alcune proposte. Sicuramente il tema della sanità sarà un tema centrale anche nel prossimo anno, però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta accelerata dal parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere ed esprimere le nostre posizioni. Penso al piano dei rifiuti, quindi al tutto il tema ambientale. L'ultimo tema è il tema lavoro. Abbiamo presentato una proposta di legge appunto che va nella direzione dell'aiuto e del sostentamento per tutti quei minori che purtroppo perdono un familiare sul lavoro, sperando che il tema lavoro, il tema sicurezza sul lavoro sia un tema centrale nel prossimo anno di legislatura. Siti produttivi e distretti industriali al centro della ripresa dei lavori per Forza Italia, a cui si legano le infrastrutture, a cominciare da una raccolta firme per evitare il passaggio a pagamento della FIPILI. Si ferma per la pausa estiva, ma l'attività dei consiglieri continua, tant'è vero che noi come Forza Italia siamo in attività permanente, faremo incontri sugli stabilimenti balneari, continueremo a lavorare ancora sui temi che riguardano la regione toscana. Penso ai siti produttivi, penso ai distretti industriali, penso al tema della grande crisi che vive la provincia di Firenze con le industrie della moda e della pelle del cazzaturiero, penso al tema delle infrastrutture. Faremo nel periodo estivo una raccolta firme contro la FIPILI a pagamento. Ecco, riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale, partendo dalle questioni fondamentali. Prima fra tutte, la sanità. Siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attesa, i dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica. Ecco, tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025. pronti come centro-destra a vincere questa regione mettendo in campo il candidato migliore. Tutela del lavoro e dignità del lavoro, sanità e ambiente, i punti principali che dovranno essere discussi per il Movimento 5 Stelle. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda. Il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto, e l'ambiente che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A questi si allaccia poi il problema della multi-utility, di cui non vogliamo la quotazione in borsa, di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa, e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone, a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea e dobbiamo cercare di guardare appunto all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente, che diventa fondamentale in questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento è decisivo sotto tutti i profili, anche quello economico. Il gruppo misto incentrerà la ripresa dei lavori sul tema della sanità. Ritengo che questo mese di agosto possa essere per me e il mio gruppo punto di analisi e di studio per quelle che sono i mali della sanità che ci scontriamo e si scontrano gli utenti quotidianamente. Io più volte ho impostato i miei atti su un cambiamento di prospettiva, non più la medicina basata su quanto viene speso per la risonanza magnetica, anzi per una visita, ma per arrivare alla guarigione. Quindi non più fee for service, ma fee for value. Quindi la medicina basata sul valore, cioè fortificare la prevenzione affinché non si vada a spendere tantissimo in quella che è fortunatamente una vita che va sempre più a lungo, una vita che porta a problemi di cronicità più che di acuzie e quindi una medicina che deve andare, è vero, a casa del paziente, ma una medicina che comunque sappia reagire a quelle che sono le varie situazioni contingenti che si possono creare. Dobbiamo creare una spesa sanitaria appropriata e cercare di razionalizzare più che di risparmiare. Toscana Contemporanea è la campagna social del Consiglio regionale per l'estate 2024, dedicata ai luoghi d'arte contemporanea all'aperto, all'arte urbana, ai parchi d'arte. L'iniziativa è stata presentata presso il Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo. L'arte urbana rende la Toscana un grande museo a cielo aperto. In questi anni abbiamo deciso di investirci tanto, vorremmo continuarlo a fare anche nel futuro. In questo c'è l'idea della Toscana diffusa. Queste opere uniche, stupende, dai piccoli borghi della Garfagnana fino a Pisa, a Firenze, riescono a raccontarci una Toscana in grado non solo di vivere nella bellezza del suo passato, ma anche di raccontare il presente e farlo con un'arte, un'arte moderna, un'arte più vicina alle persone, in grado anche di creare socialità. Toscana contemporanea è tutto questo. Negli scorsi anni abbiamo deciso di raccontare la Toscana dei piccoli borghi, la Toscana dei parchi, quest'anno invece raccontiamo la Toscana dell'arte di strada, la Toscana dell'arte vicina alle persone e chiediamo alle cittadine e ai cittadini della nostra regione e non solo, anche ai tanti turisti, di andare a scoprire quante meraviglie ci sono nella Toscana diffusa. La collaborazione va avanti ormai da tre anni, quest'anno il tema è l'arte contemporanea e Fondazione accompagna il Consiglio come su tante altre attività, ma questa con particolare interesse perché l'arte contemporanea è molto diffusa in Toscana, dalle grandi città ai piccoli borghi, ci sono opere anche nella campagna, quindi la campagna di fotografica rappresenta bene questa diffusione. Poi accompagneremo con tutti i sistemi di comunicazione, quindi dei video, dei reel, dei format informativi su tutti i nostri sistemi, quindi non solo quelli a fini turistici come la visita a Scani, ma anche quelli a fini informativi e comunicativi con la redazione di in Toscana e tutti gli strumenti social e la redazione del Consiglio. Accompagneremo questa manifestazione che serve a far vedere come la diffusione dell'arte contemporanea coniuga bene l'identità della Toscana fra antico, storia, cultura, radicamento e al contempo la contemporaneità che coniuga l'identità toscana in maniera innovativa. In più si aggiunge il portale i visit perché le foto che troverete e i video che rappresentano quei luoghi sono materiali e strumenti che si trovano sul sito di Visit Toscani e lì ci sono anche offerte, quindi gli operatori del turismo della regione possono offrire in cinque lingue le loro offerte di accoglienza, di visita, di esperienza legate alla Toscana contemporanea. Ce ne sono diverse decine sul sito di Visit Toscani, i tedeschi sono più interessati agli aspetti che coniugano per esempio le cantine, l'arte contemporanea, l'architettura, i francesi più alla diffusione dei luoghi, gli inglesi sono più collegati agli itinerari e ai percorsi, alle opere di arte contemporanea lungo gli itinerari della via francigena, della via degli dèi e ai percorsi della Romea strada. A seconda dei target, delle fasce e dei mercati di riferimento c'è un interesse, la Toscana è in grado di soddisfare tutta la domanda e la curiosità dei turisti sia nazionali che internazionali e fondazione con gli strumenti che ho detto l'accompagna molto volentieri. Dal 23 al 25 agosto il Parco Comunale dell'Uccelliera, nel borgo medievale di Scrofiano, frazione di Sinalunga, ospiterà Extravaganza Birrantology Festival, una rassegna musicale ad ingresso gratuito che unisce la ricerca sonora all'immaginario visivo, l'attenzione alle birre artigianali, allo street food di qualità, ai libri e ai fumetti. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa al Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso, a cui erano presenti il Vice Presidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la Consigliera regionale Elena Rosignoli, la Vice Sindaca di Sinalunga Cosetta Pericoli, il Consigliere delegato all'Associazionismo Francesco Lunghini e il Direttore artistico del Festival Giacomo Spinelli. L'iniziativa che ravviva il borgo di Scrofiano, un piccolo borgo dentro il comune, ovviamente nel contesto del comune di Sinalunga, un'iniziativa che mette insieme elementi di carattere culturale, musicali ed enogastronomici, quella Toscana diffusa di quei piccoli borghi che fanno però bella e viva la nostra comunità. Questo è il motivo per cui il Consiglio regionale della Toscana promuove, sostiene e cerca di diffondere le informazioni rispetto a queste iniziative che hanno bisogno del supporto delle istituzioni. Birrantology è un evento culturale che viene effettuato in un piccolissimo borgo, quindi il contesto reale della Toscana diffusa e come gli eventi culturali diano modo di far conoscere questi luoghi in maniera più approfondita. Questa manifestazione è un fiore all'occhiello del nostro comune, perché è stata innanzitutto pensata da un gruppo di giovani che avevano la volontà di promuovere stili musicali diversi e cultura musicale anche, associata alla produzione e alla valorizzazione di birre locali. Birrantology è un festival che si svolge a Scrofiano, in questo piccolo borgo del nostro comune, un borgo medievale con un parco molto bello, dove si snoda appunto questo festival. Viene organizzato lì sia il palco per le band che si esibiscono, band internazionali, che producono musica particolare e diversificata. Tutto è abbinato ad uno street food di assoluta qualità, con prodotti della nostra cultura, con prodotti del nostro territorio, tipo l'aglione, la chianina e la cintasenese, che si associano a queste birre selezionate appunto per i visitatori di questo festival. È un festival basato su un libro, un concept festival che nasce da un processo artistico e creativo che ha portato nel 2019 alla stresura di un libro. In questo libro viene documentata l'esperienza dei ragazzi del collettivo che gestisce l'organizzazione e vengono tramite un racconto fantastico create delle tre divinità che rappresentano tre atmosfere che vengono sul palco le sere del festival. Vediamo il venerdì una serata più che altro a Synthwave, il sabato una serata dedicata al gothic rock e la domenica dedicata al punk rock. Cerchiamo di riportare all'interno del parco l'atmosfera del festival che descriviamo attraverso le divinità che sono descritte nel libro. Grazie per la visione!